Facendo il bartender ho imparato due cose La prima è che posso usare la miscelazione come forma di comunicazione La seconda è che devo tenere sempre il sorriso Ma a volte, detenere il sorriso non è così semplice Ci sono dei momenti in cui ti trovi davvero in difficoltà e vorresti mollare tutto Ma ogni volta mi ricordo il discorso di un tag che diceva L'importante non è quante volte caldi L'importante è che ti rialzi tutte le volte Ogni volta con le mie difficoltà mi sono sempre rialzato Ma a certe volte faccio degli errori così idioti Testa di Rapa Testa di Rapa a chi? No, è il nome del cocktail, stai calmo Ah, ok